amici e amiche di pepe high tech bentornati su star wars jedi fallen order allora abbiamo affrontato di nuovo la seconda sorella dico bene giusto che è risultata essere la padawan della nostra amica di viaggio e ci ha detto delle cose che se vere potrebbero non lo so non lo so noi comunque vediamo nel proseguiamo nella storia così in modo da capire che cosa ci aspetta controlliamo la mappa e si direi proprio che il passaggio che dobbiamo prendere è questo qui stretto stretto sempre più stretto ma il nostro calla è come un gatto non c'è passaggio che lo possa bloccare eccola sembra diversa dall'altra tomba si molto diversa lo so ma non mi piace direi ti do ragione nuovo obiettivo aggiunto allo mappa vediamo un pochettino allora il nostro obiettivo è quello di arrivare là in fondo quindi iniziamo a provare a fare in questo modo bene sono andato un po a casaccio devo dirvi la verità ragazzo mi aspettavo che mi dovesse aggrappare lì però fortunatamente perché come la comunicazione è capito alle trasmissioni criptate a cedere alle trasmissioni ah hai capito ok ce l'abbiamo fatta ok andiamo su bene sempre questi percorsi facili facili giusto proprio vabbè giusto perché è un percorso studiato per gli Jedi vabbè vicolo cieco vicolo cieco vabbè e allora aspetta consultiamo la mappa fermo ah vedi non è un vicolo cieco perché c'è questa insinatura che io non avevo visto ma giustamente il nostro call come detto prima essendo lui di origine felina può attraversare tranquillamente ok dopo quest'ultima cretinata non potrei anche smettere di registrare va bene ok ah non effetto su di lui no ha poco effetto su di lui aia oh bene se aggessi i capelli giustamente è il nostro calvanitoso ok non so perché penso che debba andare proprio là e no infatti non devo andare là qui c'è una sfera rotta che non possiamo utilizzare bene lì c'è una sfera che non ci possiamo fare niente quindi dobbiamo salire da qualche parte ok allora qua è il momento di consultare nuovamente della mappa eccola c'ero quasi vicino senza consultare la mappa eh sì andiamo di qua interagiamo che cos'è bene che cos'è amico mio questi dispositivi simulano azionale del pianeta lo considero un tema ricorrente perciò vabbè ok grazie per la spiegazione ah un punto di salvataggio riprendiamoci un pochettino dai abbiamo ripristinato l'energia di cal i miei esploratori hanno trovato un manufatto interessante dietro questa tomba lo sto studiando per scoprirmi i segreti ok pare che cordova fosse davvero affascinato da questi zepho forse è al punto da nascondere l'olocron tra le loro ossa vedremo cosa scoprirai vediamo sì ok bene andiamo di qua saliamo 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 ah l'altra porta da sfondare vai ok ah ah colpito la maledizione ah vai Ok Allora Ora interagiamo con questo Sperando che accada qualcosa Che ci sblocchi un passaggio Oh Allora questo è blu Quello è blu No Non succede Aspetta aspetta Sì Aspetta c'è qualche cosa Che dobbiamo disattivare Ora giustamente sì perché abbiamo attivato quello Lo dobbiamo disattivare Il magnete non funziona più Possiamo buttare questo là Salirci sopra E andare lì Bene Ok Oh questo maledetto topo Vieni qua Oh Ciao Allora c'è un eco della forza No c'è proprio un punto di salvataggio Salviamo pure qui Salviamo sempre quando possiamo E ora E ora Devo Vediamo un pochettino Sì per ora andare di qua Ok Ciao Ciao Eh Stai dicendo dirlo alla squadra Bene Ciao Ciao Ok Bene E' un altro soldato qua No 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 Dove siamo arrivati Dove siamo arrivati Ah Ah ecco c'erano le liane Non le avevo viste Dai Ah Chiappa la primo colpo Chiappa la primo colpo E appenditi Per un pelo Per un pelo Ce l'ho fatta Ah ok Giro 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 Tondo Casca il mondo Casca la terra Tutti giù per terra Ah Deduco che debba saltare di qua Sì per fortuna Perché non avevo visto niente Ok Ah Bene Ah sì Ok Ah Prima non ti è andata bene Eh Non fare lo spavaldo Ah Oh Oh Bello Mi piace Penso che debba lasciare qua così Ok Ok Ah Cos'è se posso No Devo girare di qua così Ah Ah Bene Questo Ottimo Saltiamo di qua Tu dici Scommettiamo Andiamo 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 Vediamo Vediamo chi vive e chi muore Vediamo chi vive e chi muore Su Forza E qui E' qui Sarà fatto Ah Blocco l'attacco Ripiego Ah Ah Ecco va bene Ah posto Fatto Vediamo un po' Oh Ora 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 penso che posso andare Vediamo Sì Vai Salta Ok Andiamo di qua Saltiamo di qua Oggi è un po' più Interessante Ci sono un po' più Percorsi Da seguire Ok Oh Da dove esci tu Oh Oh Ok Allora Penso che debba salire per di qua Debo andare per di qua C'è questa pianta Eh Tu vai via Vediamo qui Ora si sposterà qualche altra cosa Ho capito Ho capito Forza Signori Dopo vari tentativi Sì Ok Devo scendere qua Vediamo Mi sa Di sì E poi E poi Devo andare di qua Sì Ce l'ho fatta Allora era così Era così Era così Andiamo qui Bene Poi saltiamo Di qua E poi Arriviamo Ok Bene Poi corriamo Di qua Saltiamo Di qua Andiamo qui Saliamo Su Ok Quindi dopo Vari milioni Di combinazioni Sono riuscito Ah Aspetta Dobbiamo salire Bene Siamo quasi Arrivati Un montone Maledetto Ah è vero Questo Ah Annoggio Annoggio Oh 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 Muori Dove hai togli più La tua energia Che è la seconda sorella Al momento Ah Sì 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 Sicura Ne valga la pena Il progetto Trivella Ha avuto costi elevati Assaltatori E operai Risorte Impiazzabili Sei un mostro Sono ciò Che mi hai da dire Ah Grazie Eccola Perfetto Ok Ehi Sali Dimmi Ah no Mi era sembrato Che mi hai stato chiamato Oh Sono arrivato Qua sopra Finalmente Perfetto Ah E ora Saltiamo qua Fatto questo Saltiamo dall'altro lato Apriamo qui Una vera sfida Finalmente Sai soltanto scappare Sì Ah Quello è morto subito Grazie pure A questi topi giganti Bene Oh Guardatelo Scita all'improvviso Valedetto Muori Oh Ok Andare di qua Oh Oh Non mi potete mettere Cosa esceva così bene Non sono sicuro Non sono sicuro di come fosse Non importa quello che rubi Non lo comprenderai mai Tu sì invece Oh Ben presto lo scoprirai Non vedo l'ora Allora Deduco che debba saltare per di qua Probabile Proviamo Ok Ok Qui ci sono cose che ancora non posso Ok Utilizzare Però qui posso saltare E arrampicarmi Bene Bene Devo andare per di qua Seguiamo la rampicante Ok Non so perché Penso che debba fare un salto di qua Perfetto Così Di qua E Ah Di là Oh 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 Di qua Perfetto Una volta andati di qua Ok Ok Sì Bene Ce l'ha fatta Ok Vediamo un poco Ok E' a tempo Quindi Così Uh Pela Pela Siamo saltando così Bene E' l'ultimo Ce l'abbiamo fatta Qui Se faccio in questo modo Che cosa succede Vediamo un poco Ah Tutto aperto Va bene E ora Vediamo un poco Ah Sono arrivato Ecco ragazzi Il punto cruciale Della storia Dopodiché Vediamo un po' Cosa succede E poi magari Salviamo la partita E ci vediamo Con il prossimo Episodio Vai vai Forza Vai Oh Eccoci qua Allora Beh Iniziamo a salvare Allora Abbiamo salvato E Siamo arrivati Alla tomba Bene Direi di farlo Quest'altro piccolo Pezzettino Ma si dai Allora Qua Scendiamo Corsettina Contro il muro Salto A prossimo Salvataggio Salviamo Dai Questa può essere Una parte importante E penso che allora Deba saltare qui Sì Ah Ancora Eh Mi hai attirato qui Ma è grazie Ma guarda un po' Scusate ma Un po' Di tosse Ok 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 Ah Oh Mi ha buttato giù Maledetto Ah Eh ciao La seconda volta Eccola buona Oh Ah Sono vivo Sono morto E cosa succede Un rallentatore No Che succede Si una nuova lezione Bene Ok Voliamo Ok Va bene Ok Qualche altra cosa No Ok Quindi la posso prendere Percepisci l'energia Intorno a te Ok Richiama la tua arma Bene Vai La forza è in te Intorno a te Ti lega l'arma che impugni Ignora qualsiasi distrazione Ok Concentriamoci Ecco ci abbiamo fatto Oh Bene Attrazione Attira gli oggetti Gli oggetti nemici Usando la forza Bene Ok Siamo arrivati qua Esplora la tomba Di Mictrul Obiettivo Completato Bene ragazzi Allora Abbiamo completato L'obiettivo Abbiamo preso Una nuova abilità E io con questo Vi saluto Vi ringrazio Di aver guardato Il video fino alla fine Vi invito a lasciare Mi piace sotto al video Di commentarlo se volete Ricordate di iscrivervi Sia al canale youtube Che al canale facebook Ditelo a parenti amici Conoscenti Come vi dico sempre Fateli iscrivervi Ad entrambi i canali Noi ci vediamo Con il prossimo video Continuate a seguirmi E ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti